Io invece vado spesso in macchina anche per lavoro e mi è successa questa cosa che a Milano a volte capita mi hanno spaccato il finestrino della macchina non so se vi è mai successo, quando succede fai incazzare tra l'altro anche se sei di sinistra un po' dici ma chissà Salvini avrà ragione, avrà torto, ma sto finestrino rotto poi lo racconto ai miei amici mi hanno spaccato il finestrino della macchina ah si ti hanno spaccato il finestrino, ma era per rubarti il navigatore beh avrei lasciato qualcosa su, ma allora perché te l'hanno spaccato? come se fossi io a dovermi fare un esame di coscienza perché mi hanno spaccato il finestrino della macchina che poi tra l'altro controllando sotto il sedile ho trovato delle cose che prima non c'erano e cioè dei volantini di kebabari cioè che lì ho capito, no? cioè quindi è una forma estrema di volantinaggio perché questi probabilmente, penso che tu arrivi e dici puttaneva mi hanno spaccato, cazzo però è la pizza 3 euro grazie Grazie.